Dopo aver parlato della roadmap di Cyberpunk 2077 per porre rimedio e aggiungere contenuti allo stato attuale del gioco, purtroppo abbiamo dovuto annunciare il rinvio della patch 1.2, che originariamente era pensata per febbraio, ma purtroppo è stata rimandata a marzo, per tante ragioni che abbiamo preso in esame, eccetera eccetera, non mi va di tornarci adesso. Comunque sia, a quanto pare, ci sono news direttamente da CD Projekt Red. Nella fattispecie, ecco qua, tramite un video abbastanza carino, devo dire, perché è fatto piuttosto bene in maniera creativa, Cyberpunk 2077, patch 1.2 di marzo in arrivo, ecco cosa cambia. Ecco l'aggiornamento sulla patch 1.2 di marzo di Cyberpunk 2077, l'aggiornamento è stato trasmesso come parte di un notiziario in-game, dalla quale emergono i primi due cambiamenti importanti al gioco, e questa era carina come cosa. Allora, in primis, sarà cambiato il comportamento della polizia, la cui morsa sarà reso meno asfissiante per lasciare un po' di respiro alla controparte criminale, che poi fosse quello il problema principale, vabbè. Ok, comunque. Questo è un primo importante intervento sul comportamento della polizia nel gioco, dovebbe ridurre il problema di PNG che appaiono alle spalle del giocatore e dare l'impressione che la polizia impieghi un po' di tempo ad arrivare sulla scena del crimine, dopo che questo è stato segnalato. Abbiamo inoltre aggiunto un'unità drone da ricognizione per dare la sensazione che la polizia stia valutando la situazione. In secondo luogo, la guida subirà dei ritocchi personalizzabili a proprio piacimento dal momento che sarà introdotto un cursore per regolare la sensibilità della sterzata. Un sistema sarà inoltre inserito per rendere fluida la guida anche nei momenti più complessi in cui ci dovessero essere fluttuazioni del framerate. Analizzando il risconto del nostro modello di guida abbiamo notato che molti giocatori hanno incontrato difficoltà con la rapidità di sterzata. La maggior parte delle opinioni negative sono poi venute ai giocatori che utilizzavano la tastiera sul PC o sulle piattaforme con frequenza aggiornamento bassa, per lo più le console in versione base, ed erano incentrate sulla difficoltà di restare in carreggiata o problemi simili. Ora abbiamo implementato un cursore per la sensibilità di sterzata in menu delle opzioni. Questo permette di ridurre la rapidità di sterzata per tutti i veicoli e tutti i dispositivi di input senza influenzare il raggio massimo di sterzata. A frequenze di fotogrammi basse le auto erano più difficili da controllare. Abbiamo ricondotto il problema a una parte di codice che non risultava in grado di gestire correttamente i cambiamenti estremi nella frequenza di fotogrammi. La rapidità di sterzata è ora coerente da 20 a 60 o più FPS. Infine abbiamo portato delle modifiche ad alcuni modelli di veicoli specifici che risultavano troppo scattosi a frequenze di fotogrammi bassi, inclusa l'Archer e Hella del giocatore. Inoltre è stata implementata una feature di sblocco per consentire ai giocatori rimasti incastrati con i loro veicoli di tornare in strada semplicemente accelerando per alcuni secondi. Infine, la schivata eseguita premendo due volte su un comando in movimento potrà essere disabilitata, evitando gesti non desiderati dei personaggi. E qui potete trovare l'intero un po' bizzarro post in cui vengono comunicati tutti i cambiamenti della patch 1.2 sul sito ufficiale di Cyberpunk 2077 in italiano. Ecco qua. Non ci è dato sapere se le modifiche si limiteranno a quelle elencate poc'anzi o ce ne saranno delle altre, né se queste saranno sufficienti a riportare il gioco su PlayStation Store, dove manca ormai da tre mesi. Allora ragazzi, io dico che non so che cosa pensare di questa patch, perché in realtà io ritengo che questo genere di cose possa essere utile. E senza dubbio questo tipo di comportamento della polizia, dei miglioramenti alla guida e il miglioramento ad alcune problematiche insite nel gaming come quelle che abbiamo elencato, siano una cosa positiva. Ma vi dico la sincera verità, quello che mi preme di più è non tanto dire oh mi aspettavo qualcosa in più, sì, sì, sulla carta sì, però in realtà sono i bug fix la cosa veramente importante in questo momento, perché poi si potrebbe discutere di cose che possono essere cambiate. Però il titolo è stato lanciato sul mercato un po' di tempo fa, cambiare delle cose interne al gioco è il genere di cosa che va fatta dopo aver reso il gioco fruibile veramente al 100%. Perché per esempio io ragazzi lo sto portando in live su Twitch proprio in questo periodo, anzi seguitemi lì se volete perché ci stiamo avvicinando alla fine più o meno, non lo sto facendo tutta quanta la run proprio in blind, d'accordo? E devo dirvi che la quantità, al di là del discorso del gioco, questo non c'entra in niente, ma la quantità di bug nel gioco è ancora troppo alta, è veramente imbarazzante, lo sto giocando su PC, oltretutto. Quindi onestamente in questa fase del gioco è veramente un pesantissimo bug fix, credo che sia al top delle priorità perché è veramente importante, cioè ti rovina alcune missioni, ti rovina l'immersività e ti crea un sacco di problemi, tanto che a un certo punto vi dico che soprattutto nell'ultima live che ho fatto per un momento ho detto vabbè ragazzi aspetta fatemi chiudere, non ne posso più. Quindi la situazione è questa qua, io dubito che con questa sola patch riusciranno a cambiare veramente tanto 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 la direzione del gioco. Sarà un cammino lungo ragazzi e molti ragazzi mi hanno scritto in live di guarda io sto aspettando ancora giocarlo quando veramente mi diranno che è in uno stato migliore il gioco e lo posso capire, lo posso capire. In un gioco che, e io stesso lo sto notando, ha dei punti di forza veramente incredibili, cioè alcune cose sono belle per essere belle e alcune in particolare sono tra le più belle che abbia mai visto in un videogioco proprio e basta, ma altre sono veramente incomprensibili, rotte, malpensate, frutto di compromessi eccessivi, eccetera, eccetera. Quindi il cammino è ancora lungo e questa patch 1.2 è tanto attesa, ma vi dico quello che penso, dubito che cambierà la situazione così tanto da dire ok, bene, adesso ci siamo, adesso è veramente soddisfacente. Il cammino è lungo, tante altre cose vanno fatte e vi dico, io non ho fatto una singola live senza incontrare un numero consistente di bug. Non tu ti rompi gioco, sia chiaro. E poi soprattutto, chi ha un pochettino di esperienza con i videogiochi sa come aggirare un pochettino i bug. Per esempio, non ti fa parlare con un giocatore, con un NPC. Sta lì, non compare il comando per parlare. Ti allontani un po', riparti, non arriva ancora il comando, ti allontani ancora un po', ti fa un giretto, eccetera, rientri, ops, ricompare il comando. Oppure, non ti fa salire su una scala, stessa cosa. Si è buggato, si è compenetrato un loot, eccetera, cerchi l'angolazione giusta. Sono tutte cose che chi ha familiarità con i videogiochi riesce ad affrontare. Però sono troppe, sono veramente tante ed è fastidioso a livelli piuttosto estremi. Perciò io spero davvero che questa 1.2, oltre a queste cose, che vanno bene, anche se secondo me il problema con la polizia non è... Cioè, questo è uno di quelli. Cioè, quelli che compaiono dal nulla, l'abbiamo visto in tantissimi video, e è successo anche a me un paio di volte, ma... Né solo uno dei problemi della polizia. È la reazione, la reazione completamente sconclusionata che ha la polizia in molti casi. Cioè, è qualcosa di veramente fuori luogo. E anche questo rompe l'immersività. E questa patch, questa cosa non la toccherà per niente. È per questo che vi dico che ancora c'è da camminare, secondo me. Di nuovo, peccato perché comincio veramente a pensare che questo gioco sia... E lo sto vivendo sulla mia pelle. Un diamante tagliato col culo, però veramente fatemelo dire. Va bene, ragazzi. Adesso basta, non voglio allargarmi troppo. Questi sono i contenuti della patch 1.2. E potete vedere anche nel dettaglio tutto quello che è stato fatto sul sito ufficiale di Cyberpunk, perché c'è tutta la lista, anche di molti bugfix. Quindi, ragazzi, detto questo, fatemi sapere che cosa ne pensate voi. La sezione commenti è tutta vostra. Siete soddisfatti? Pensate che la cosa basterà? Pensate che cambierà le carte in tavola veramente? Oppure no? Non lo so, ragazzi. Fatemi sapere la vostra opinione. Io vi ho detto la mia. Detto questo, grazie a tutti per aver visto questo video. Noi ci vediamo al prossimo e, come sempre, gente, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al secondo canale e seguitemi su Twitch. Lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate, come sempre, tutti i link ai miei social e community come Instagram e Telegram, tutti i link per supportare il canale e anche il link alla playlist con tutti i video delle mini news. D'accordo, ragazzi? A presto. Grazie. 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 Grazie.